Ai più è noto come il padrino dell'heavy metal. Certo è che dall'alto dei suoi 100 milioni di dischi venduti e della celebrità planetaria, Ozzy Osbourne non ha mai nascosto la propria dipendenza da alcol e da droghe. L'ultima ricaduta a 65 anni suonati è recente e successiva alla reunion dei Black Sabbath, complice una crisi coniugale con la moglie Sharon, anche lei star della celebre serie tv Osbones. Ora però, uscitone per l'ennesima volta, lancia un appello dallo show di beneficenza a Los Angeles, organizzato per raccogliere fondi a favore della fondazione Music Airs che si occupa di aiutare i musicisti a uscire dalla tossicodipendenza. È un problema che conosco bene e sono la persona indicata per chiedere a tutti di fermarsi, di uscirne, spiega Ozzy, che sembra credere nel progetto. Un sacco di persone che conosco sono state recuperate dalla tossicodipendenza e dalla dipendenza d'alcol da questa organizzazione, lo sapevate? Con lui anche Kirk Hammett e Robert Trujillo, le Metallica, in prima linea nella lotta alla droga, è pronti a registrare il decimo album in studio della band. Le idee le abbiamo tutte, anzi, non è affatto vero che non abbiamo nulla da dire, spiega Trujillo. Dobbiamo solo trovare il tempo per chiuderci in sala di registrazione e concentrarci. E tenetevi forte, arriverà molto presto.